Buonasera a tutti gli amici dei Senzagiacca della pancia del tifoso. Questa sera Lavuel ha disputato la sua seconda partita consecutiva casalinga. Dopo la sconfitta di mercoledì scorso contro Vegevano abbiamo sconfitto 82-77 a Vellino. Diciamo subito una partita molto molto sofferta che non è stata condotta da Vellino come è successo mercoledì scorso. Dai nostri avversari quindi per la prima volta dopo due inizi di partita a Nardò e contro Vegevano partendo da 0-9 abbiamo finalmente avuto una partenza degna di questo nome. Quindi non abbiamo cominciato con questo gap subito da colmare. Diciamo che non è stata condotta dalla VL ma sia a Vellino che noi ci siamo un pochino scambiati i vantaggi fino a che nell'ultimo quarto non ci siamo presi sette punti che però sono stati vanificati quando in un momento molto buono nostro sembrava potessimo concludere o comunque andare via abbastanza bene. Un grande Mussini prima di tutto e non solo lui hanno colmato questa differenza. è a Vellino andata sopra e fortunatamente poi ce la siamo ripresa perché un'altra sconfitta sarebbe stata davvero sanguinosa. Avrebbe dato modo a tutti quanti insomma di avere molte più perplessità o se non certezze negative sulla struttura della squadra. Perché dico questo? Perché comunque delle perplessità ci sono e sicuramente in questo inizio di campionato non abbiamo affrontato le prime della classe almeno sulla carta considerando il fatto che partiamo da un presupposto c'è quello che in teoria noi dovremmo disputare un campionato di vertice che non significa comandare il campionato ma essere tra le prime 4-5 squadre a giocarsela e chiaramente al momento su questo ci sono tanti dubbi noi dobbiamo chiaramente commentare questo perché le aspettative sono queste, le aspettative nostre, le aspettative dichiarate dalla società anche se Pino in conferenze stampa pre-campionato ha cercato di un attimo di Pino Sacripanti di mettere un pochino e tirare leggermente il freno a mano rispetto a questo è chiaro che insomma stupidi non siamo tutti quanti quindi parlo un po' penso a nome di tutti problemi strutturali ci sono comunque questa sera abbiamo portato a casa due punti ora ci aspettano due trasferte di seguito domenica a Rieti mercoledì prossimo infrasettimanale a Forlì poi in casa Verona e andremo poi a Milano contro Ale Gentile che insomma come prevedibile sta dominando il campionato in questo momento quindi queste quattro partite contro avversari di livello superiore a quelli che abbiamo affrontato fino adesso si faranno capire diverse cose almeno per questo inizio di campionato se parliamo di problemi strutturali è chiaro che dalla luce vengono fuori le lacune atletiche la mancanza di centro ma adesso di questo non vorrei più parlare perché è diventata una cantilena non solamente di quest'anno quindi anche questa sera abbiamo dato l'idea di soffrire maledettamente questo anche se poi i dati a differenza dall'impressione diretta ci parlano di una lotta rimbalzo vinta da noi 37-33 13 rimbalzi offensivi di Avellino che pareva aver dominato sotto questo punto di vista 13 rimbalzi non sono pochi ma allo stesso tempo offensivamente ne abbiamo presi 11 anche noi però è chiaro che guardando la partita in diretta al palazzo l'impressione che abbiamo è questa che atleticamente quindi questo si traduce in energia che sembra da parte degli avversari sempre maggiore questo se si vede l'impressione è questa qui probabilmente i dati ci raccontano altro da questo punto di vista perché come dire evidentemente noi per prendere certi rimbalzi diamo l'idea di comunque di dover rampicarci con più fatica e comunque individualmente grande prova di Lombardi 28 punti inusuale per lui americani King ancora purtroppo non all'altezza ma del solito c'è un dolante che sguscia va attaccare il ferro schiaccia in faccia agli avversari ma perde un sacco di palloni e pare giocare un pochino con questo suo fare al campetto neanche di quelli troppo buoni però su di lui confido confido molto che prenda confidenza un po' con tutto in bro secondo me ha bisogno di una struttura un pochino più potente per venire fuori ma il campionato è lungo e avrà un tempo e modo di di avere e di consolidare un po' una sua leadership generale Zanotti sempre a sprazzi ma discreta partita Bucarelli meglio di mercoledì scorso De Laurentiis finalmente ci fa vedere qualcosa in area perché comunque come dicevamo forse è l'unica caratteristiche e fondamentali per combattere dentro l'area mi fermerei qui perché sono già come sempre arrivato lungo quindi aspettiamo le prossime partite per vedere comunque dei miglioramenti da quel punto di vista di cui si parlava quindi vi saluto e ci vediamo alla prossima ciao